Noi con l'apporto di alcuni tecnici abbiamo scopato delle sentenze di Cassazione per cui la mia vita comunque la deve garantire, anche se c'è un riferimento, comunque la deve garantire la lega garantita dell'ANIS. Io sono molto scelto, per esempio c'è pure secondo me pensare male si fa peccato, però delle volte si stia. Siccome la prima di non liberato per cui io sono stato un po' di risposta, mi pare che sono stata anche un po' estremamente finita. Guarda caso una legione di testa da me e non tutti i sindaci alla seconda legione, non che? Non neanche me. Sì, se non lo sapevo, tu me lo vado in me stai dato per scontare. Allora, nella prima riunione, 12 giorni si risolve tutto, ognuno prende i loro impegni e poi questa decisione, quello che dopo si financia. Allora, io direi documenti di un'unione cosa, non vi legge, perché c'è un disinteresse per la cosa pubblica, e questo sono gli interessi per la cosa pubblica. Io mi sentoci perché stiamo a contatto, a contatto, a contatto.